Una riflessione quanto mai attuale, quella portata dal professor Carlo Barbante dell'Università degli Studi di Venezia sul palco delle due culture a Biogem. Un excursus sui cambiamenti climatici avvenuti nell'ultimo secolo, dal titolo è troppo tardi per i due gradi, dall'Accordo di Parigi al clima che verrà. Siamo entrati in un'era in cui dobbiamo parlare di rischio climatico, di emergenza climatica. Quello che sta succedendo è ormai fuori da un sistema in equilibrio. Conosciamo bene i link che ci sono tra la concentrazione di gas aereo in atmosfera e la temperatura e stiamo veramente andando verso un sistema completamente fuori controllo. Dall'epoca preindustriale ormai abbiamo realizzato a livello globale un aumento di temperatura di circa un grado. Ci sono delle aree del pianeta che hanno dimostrato un aumento di temperatura ben superiore. Per esempio l'Artico che per una serie di effetti che vengono definiti come amplificazione artica hanno fatto vedere un aumento di temperatura di addirittura 3 gradi con delle conseguenze per i ghiacci polari veramente molto drammatiche. Secondo lei professore che cosa si può fare? Ci sono molte cose che si possono fare. Adattamento e mitigazione devono andare avanti assieme. Adattamento vuol dire che ormai il sistema è in una situazione di fuori controllo e dobbiamo comunque mettere in atto delle procedure per adattarci a questo cambiamento. Quindi costruire delle barriere ad esempio per le piene, costruire delle dighe dove è necessario, per esempio sto pensando alle barriere mobili a Venezia per il contenimento dell'acqua alta e naturalmente anche mitigare, quindi diminuire le emissioni, migliorare l'efficienza energetica. E se precauzioni non dovessero essere prese nel minor tempo possibile, Barbante è sicuro, l'emergenza diverrebbe sempre più incontrollabile con una forte estremizzazione degli eventi atmosferici. A luglio in Europa abbiamo avuto temperature superiori ai 40 gradi. Queste ovviamente portano a delle condizioni che sono assolutamente invivibili qualora il mix di temperatura e umidità salga sopra certi valori senza poi pensare a tutti gli impatti sulla salute ancora, sulla biosfera, quindi le migrazioni anche di esseri animali e anche umani perché ovviamente dobbiamo trovare condizioni climatiche favorevoli e poi la scarsità di acqua e il ritiro dei ghiacciai sono tutti eventi questi che già si stanno manifestando e con un ulteriore, solo un grado in più della temperatura attuale possono essere veramente estremizzati.